Capitolo 4 Sezione 2 di Ricordi di Parigi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org Registrato da Davide Lequile Ricordi di Parigi di Edmondo di Amicis Capitolo 4 Sezione 2 Parte 2 La sua storia letteraria è una delle più curiose di questi tempi I suoi primi lavori furono i Conte Agnigno scritti a 22 anni e pubblicati molto tempo dopo Lì c'è ancora lo zola in berbe con una lacrima negli occhi e un sorriso sulle labbra appena turbato da una leggera espressione di tristezza Non tiene affatto a questi racconti né si arrabbia a quei critici che o sinceramente o malignamente dicono di preferirli ai suoi romanzi A un tale che gli espresse tempo fa questo giudizio rispose Vi ringrazio ma se venite a casa mia vi farò vedere certi miei componimenti di terza grammatica che vi piaceranno anche di più I suoi primi romanzi furono quei quattro arditissimi fra cui Therese Aken ora un po' dimenticati che vennero definiti da un critico letteratura putrida C'era già lo zola uomo ma solamente dalla cintola in su Le sue grandi facoltà artistiche già spiegate ma non ancora sicure sentivano il bisogno di reggersi sopra argomenti mostruosi che attirassero per sé soli l'attenzione Si vedeva però già in quei romanzi uno scrittore imperterrito che era risoluto a farsi largo a colpi di gomito e che aveva il gomito di bronzo Uno di quei romanzi Madeleine Ferrat che si aggira sopra un fatto osservato dall'autore d'una ragazza la quale abbandonata dall'uomo che ama ne sposa un altro e da parecchi anni dopo un figliuolo che somiglia al primo gli suggerì l'idea di scrivere quella serie di romanzi fisiologici che intitolò Historie naturelle e sociale di une famille sur le seconde empire e fin dal primo giorno gli balinò alla mente tutto il lavoro e tracciò l'albero genealogico che pubblicò poi nella page d'amour Credevo che fosse anche questa una delle tante ostentazioni di un disegno basso ed antico con cui gli autori cercano di ingrandire nel pubblico il concetto delle proprie opere ma i manoscritti che ebbi l'onore di vedere mi disingannarono fin dal primo principio è istese l'elenco dei personaggi principali della famiglia Eugon Macart e destinò a ciascuno la sua carriera proponendosi di dimostrare in tutti gli effetti dell'origine dell'educazione della classe sociale dei luoghi delle circostanze del tempo I primi romanzi di questo nuovo ciclo non ottennero molto successo I linguisti gli stilisti tutti coloro che sosseggiano i libri con un palato letterario ci sentirono dalla forza ci trovarono del bello e ci presentirono del meglio ma non sospettarono che ci fosse sotto un romanziere di primo ordine Lozola se ne indispettì e getto allora un guanto di sfida a Parigi pubblicando quella famosa chiusè in cui è manifesta la risoluzione di levar rumore a ogni costo quello splendido e orrendo staturnale di mascalzoni in guanti bianchi in cui il meno turpe degli amori è l'amor di un figliastro per la matrigna e la donna più onesta è una mezzana il romanzo infatti fece chiasso si gridò allo scandalo come si gridò a Parigi per educazione ma si lesse il libro avidamente e quel nome esotico di Zola suonò per qualche tempo da tutte le parti ma non fu nemmeno quello successo come gli aspettava o desiderava e fu anche minore per i romanzi posteriori lo spaccio era scarso la cerchia dei lettori ristretta e la Zola che sentiva in sé l'originalità e la forza di un romanziere popolare se ne rodeva ma non si perdeva d'animo non sono abituato scriveva ad aspettare una ricompensa immediata dei miei lavori da dieci anni pubblico dei romanzi senza tendere l'orecchio rumore che fanno cadendo nella folla quando ce ne sarà un mocchio la gente che passa sarà ben forzata a fermarsi la sua fama non di meno andava allargandosi benché lentamente in russia dove siti indietro con simpatia a tutte le novità perdite della letteratura francese era già notissimo e tenuto in gran conto ma questo non gli bastava e gli aveva bisogno di un successo clamoroso e durevole che lo sollevasse ad un balzo e per sempre dalla schiera degli scrittori di talento che si salutano confidenzialmente con un atto della mano e ottenne finalmente il suo intento con l'assumore cominciarono a pubblicarlo in appendice nel bien public ma dovettero lasciarlo a mezzo tante furono le proteste che lanciarono gli abbonati contro quell'orrore allora fu pubblicato tutto intero in un giornale letterario e prima che fosse finito cominciarono quelle calde polemiche che divennero ardenti dopo le pubblicazioni del volume e che saranno ricordate sempre come una delle più furiosi battaglie letterarie dei tempi presenti queste polemiche diedero un impulso potente al successo del romanzo fu un successo strepitoso enorme incredibile erano anni che non si era più sentito a proposito di un libro o un fracasso di quella fatta per lungo tempo tutta Parigi non parlo d'altro che della sommo lo si sentiva discutere ad alta voce nei caffè nei teatri nei club nei gabinetti di lettura persino nelle botteghe e c'erano gli ammiratori fanatici ma erano a sé di più gli avversati acervi la brutalità inaudita di quel romanzo parve una provocazione una ceffata a Parigi una calugna contro il popolo francese si chiamava un libro una sudicerie da prendere con le molle un aborto mostruoso un azione da galera si scagliarono contro l'autore tutte le litanie delle ingiurie da quelle di nemico della patria a quella di cutier littérale e di porco pretto sputato senza giri di frase le riviste teatrali della fin dell'anno lo rappresentarono nei panni d'un spazzaturaio che andava raccattando le immondizie con la fiocina per le vie di Parigi se ne ta plus de la critique come gli disse se ta du massacre gli negavano l'ingegno l'originalità lo stile persino la grammatica c'era chi non lo voleva nemmeno discutere poco mancò che non gli si facessero delle provocazioni personali per la strada essi spandevano intorno alla sua persona le più stravaganti e più odiose dicerie che era un sacco di vizi un mezzo brutto un uomo senza cuore come l'antier un beone come coupou un sudicione come bexalè una brutta faccia come il suo père benzon il becchino ma intanto le edizioni succedevano alle edizioni i buongustai spassionati dicevano a bassa voce che Romazzo era un capolavoro il popolo parigino lo leggeva con passione perché ci trovava il suo boulevard la sua bouvet la sua bottega la sua vita dipinta insuperabilmente con colori nuovi e tocchi di pennello in confronto ai quali tutti gli atti gli parevano sbiaditi i critici più arrabbiati erano costretti a riconoscere che in quelle pagine tanto bersagliate c'era qualche cosa contro cui si sarebbero rintuzzate eternamente le punte delle loro frecce il grande successo dell'assumore fece ricercare gli altri romanzi e si può dire che lo zola diventò celebre allora la sua celebrità vera non data che da tre anni egli stesso scrisse poco tempo fa a un suo ammiratore d'Italia è però una celebrità singolare la sua un immenso pubblico lo ammira ma ad un'ammirazione in cui c'è un po' di broncio e un po' di diffidenza e lo guarda di lontano come un orso mal addomesticato ha un grande ingegno e non c'è che fare bisogna pure rassegnarsi a dirlo e a lasciarlo dire egli è ancora a Parigi il lion du jour e non ha che un rivale il dudet che non è però della sua tarchiotura ma si trattano coi guanti reciprocamente per non destare sospetti lo zola però non si vale e parche non si curi della sua celebrità non si fa innanzi viver accolto nel suo cantuccio con sua moglie con sua madre e con i suoi bambini pochi lo conoscono di vista ed è raro il trovare un suo ritratto non frequenta la società se non quando ci deve andare per studiarla e quando non ci va con questo scopo si secca non va che dall'editore charpentier che ha una splendida casa e dà delle feste splendide a cui interviene anche il gambetta non appartiene a nessuna consorteria non sta a Parigi che l'inverno l'estate va in campagna per lavorare tranquillo una volta stava all'estremità dell'évenion cliché luogo opportunissimo per studiare il popolo della Somoa ora sta in via Boulogne dove stava il ruffini poco lontano dalla casa del sacro parte terza per mezzo del mio caro amico Parodi è più l'onore di conoscere Lozola e di passare con lui parecchie ore in casa sua è un giovane ben piattato solidamente un po' somigliante nella travatura delle membra a Vittorio Go più grasso non molto alto retto come una colonna palidissimo e la sua palidezza apparisce ancora maggiore perfetto della barba e dei capelli neri che gli stanno retti sulla fronte come peli di spazzola è curioso che quasi tutti coloro che vedono il ritratto dell'Ozzola dicono questo viso non mi riesce nuovo è il viso rotondo una saudace gli occhi scuri e vivi che guardano come un'espressione scruttura portatrice fieramente la testa di un pensatore e il corpo di un atleta in mani ben fatte salde di quelle che si stringono e si ritengono strette con piacere mi rammentò a primo aspetto il suo gueldo e mi parve che sarebbe stato in grado di fare le stesse prodezze sopra l'incudine la sua corporatura gagliarda era messo meglio in evidenza dal suo vestimento era in babbuce senza colletto e senza cravatta con una giacchetta ampia e sbottonata che lasciava vedere un largo torace sporgente atto a rompere l'onda degli odi e delle irere alterarie in tutto il tempo che rimasi con lui non lo vidi mai ridere mi ricevette cortesemente con una certa franchezza soldatesca senza risolite formula di complimento appena fummon seduti prese in mano un tagliacarte fatto a pugnale con la guaina e lo ritenne finché durò la conversazione sguainandolo e ringuainandolo continuamente con un gesto beviace eravamo nel suo studio una bella sala piena di luce decorata di molti quadri a olio da cui si indovinava l'uomo che ama molto la casa e che vive molto solo certe descrizioni infatti di stanze calde e piene di comodi che si trovano nei suoi romanzi non possono essere fatte che da un uomo che sta volentieri nel suo nido in mezzo a tutte le raffinatezze della buona vita casalinga aveva davanti una gran tavolino coperto di carte e di libri disposti con ordine e sparso di molti piccoli oggetti lucicanti di forma graziosa come il tagliacarte che rivelavano un fino gusto artistico tutta la sala indicava la gettezza elegante dello scrittore parigino in voga in una parete c'era un suo grande ritratto a olio di quando aveva 26 anni parlò per prima cosa della lingua italiana mi rincresce disse di non poter leggere i libri italiani noi altri francesi in questo siamo proprio da compiangere non sappiamo nessuna lingua ma io l'italiano lo dovrei sapere essendo figliuolo d'un italiano e ci accennò lo studio critico della nostra Emma sopra la parjamur pubblicato dall'antologia dicendo che era costretto a farselo tradurre perché essendosi provato a leggerlo la metà del senso gli era sfuggita si rassegnano dunque i nostri coraggiosi traduttori della Samoa lo zola non è in grado di compensare il loro sudore con una lode sincera poi diede al parodi due risposte monosillabiche in cui si rivelò tutta la franchezza della sonatura il parodi aveva inteso dire di una discussione suropa il chateaubriand seguita a tavola tra il Durgeneff lo zola e uno dei fratelli Goncourt che questa discussione era durata sei ore ardentissima e che due dei commensali avevano difeso l'autore del genio del cristianesimo contro gli altri due i quali negavano che fosse un grande scrittore gli pareva che lo zola fosse stato uno dei difensori e lo interrogò per accertarselo e allora seguì questo curioso dialogo vous avez beaucoup un chateaubriand non vous avez beaucoup le chateaubriand non allora non siete voi che l'avete difeso nella vostra discussione con signor Durgeneff o jamais i difensori de la chateaubriand erano stati Durgeneff e il farrobert lo zola e in Goncourt l'avevano ostinatamente combattuto tutti e quattro sogliono fare colazione insieme una volta al mese e ogni volta nasce fra loro una discussione di quel genere che li tiene inchiodati a tavola per mezza giornata questa fu l'introduzione dopo la quale lo zola fu costretto a parlare esclusivamente dello zola il mio buon amico gli aveva detto il giorno avanti annunziandogli la mia visita preparatevi a subire un interrogatorio in tutte le regole ed egli aveva risposto gentilmente oh son bello e preparato si cominciò dunque l'interrogatorio ma non lo feci io non l'avrei mai osato lo fece il mio amico con un garbo squisito e lo zola cominciò a parlare di sé senza preamboli naturalissimamente come se parlasse ad un altro non c'è da dire se stavo inteso con tutta l'anima alle sue parole eppure nel punto che cominciò a parlare fui colto da una distrazione che mi fece patire la tortura non so come mi balenò alla mente quella comicissima scena della fur della vermure quando il vecchio ateo jean bernard dà un carico di legnate al frataccio al lume della luna e mi prese tutta un tratto così terribile bisogno di ridere che dovetti modermi la labbra a sangue per non scoppiare parlo prima della sua famiglia la madre di suo padre Candiota e suo padre Francesco Zola di Treviso dopo la pubblicazione della sommo egli ricevette dal Veneto parecchie lettere di parenti lontani che non conosceva parlò con amore di suo padre era ingegnere militare nell'esercito austriaco era assai colto sapeva lo spagnolo l'inglese il francese il tedesco pubblicò vari scritti scientifici che lo zolo conserva e ce ne mostrò uno con alterezza non ricordo in che anno ma ancora assai giovane lasciò il servizio militare e si mise a fare l'ingegnere civile andò in Germania dove lavorò alla costruzione ed una delle prime strade ferrate poi in Inghilterra poi a Marsiglia dove fece varie escursioni in Algeria sempre lavorando da Marsiglia fu chiamato a Parigi per le fortificazioni qui si ammogliò e qui nacque Emilio Zola che rimase a Parigi fino all'età di tre anni poi la famiglia andò a stabilirsi a E dove Francesco Zola lavorò alla costruzione di un gran canale che fu battezzato con suo nome e lo serba ancora il padre Zola possedeva una gran parte delle azioni di questo canale circa centocinquantamila lire morto lui la società fallì e alla stretta dei conti pagati i creditori non rimase alla vedova che un piccolissimo capitale il figliuolo Emilio provò perciò la strettezza fin da ragazzo ed ebbe una giovinezza poco lieta a 18 anni venne a Parigi a cercare fortuna e qui cominciò per lui una serie di prove durissime fu per qualche tempo impiegato nella casa a Chet prima a 100 lire il mese poi a 150 poi a 200 poi fu collaboratore del Figaro dopo poco tempo perdette quel posto e rimase sull'astrego arrivato a questo punto lo zola taglio corto ma capì da certi lampi dei suoi occhi e da certi suoi stringimenti di labbra che quello deve essere stato un periodo tremendo della sua vita si ingegnò di campare scribacchiando qua e là ma ne cavava appena tanto da reggersi e non tutti i giorni fu quello il tempo in cui fece quegli sudi tresi e profondi sul popolo pareggino che appariscono particolarmente nella saumoire e nel ventre de paris visse in mezzo alla povera gente abitò in parecchie di quelle case operaie e che descrisse poi maestrevolmente nel sommoire in una fra le altre dove stavano trecento operai dei più miserabili studiò il vizio e la fame con obbe delle nanà faticò digiunò pianse si perdette d'animo lottò con coraggio ma infine il suo carattere si fortificò in quella vita e n'esci armato e preparato alle battaglie che lo aspettavano nella grande arena dell'arte all'età della leva però non era ancora né francese né italiano e poteva scegliere fra le due nazionalità ma ero nato qui disse avevo qui molti ricordi e molti legami cominciavo ad aprirmi una strada amavo il luogo dove avevo sofferto scelsi per padre la Francia questa è la sua prima vita d'uomo la sua prima vita letteraria non è meno singolare ed egli la espose con la medesima franchezza continuando a giocare col pugnaletto cominciò tardi le sue scuole perché aveva poca salute stiai poco disse prendevo dei premi ma ero un cattivo scolaro sentì il primo impulso a scrivere verso i quindici anni era in umanità scrisse fra le altre cose un romanzo sulle crociate che conserva ancora e mise in versi dei lunghi squarci di prosa del Chateau Bream cosa che deve sconcertare alquanto i critici che vogliono ad ogni costo vedere degli indizi dell'indole di un grande scrittore anche nelle prime manifestazioni dell'ingegno adolescente le sue prime letture furono Walter Scott e Vittorio Hugo lessi i due autori insieme disse ma senza sentire il gran fatto la differenza perché non capivo ancora nello stile e nella lingua di Vittorio Hugo poi cominciò a leggere i Balzac e anche questo è strano il Balzac l'annoiò gli pareva lungo pesante poco interessante non lo capì e non lo fece suo che lungo tempo dopo fin qui nessuna lettura gli aveva lasciato una profonda impressione più tardi quando cominciò a leggere pensando i suoi tre scrittori prediletti furono il Muser il Flaubert e il Tain nel Muser non si vede chiaramente che cosa abbia tinto se non il sentimento di certe finezze voluttuose della vita signorile che gli esprime però senza compiacenza d'artista profondo ma freddo del Flaubert non occorre dire è l'arte medesima spinta più là più minuziosa più cruda più viciosamente colorita e anche più faticosa del Tain ritrae specialmente nell'analisi il suo metodo è quello seguito dal Tain nello studio sopra Balzacca procede come lui ordinato serrato chiedenzato e a passi uguali e pesanti dal che deriva a giudizio di alcuni un certo difetto di sveltezza al suo stile che è in special modo apparente nei suoi ultimi libri egli è un po' come si dice in Francia le part dell'elephant l'azione poi che esercitò su De Louis Balzac è immensa e visibilissima in tutte le sue opere egli è la Dora è suo figlio e se ne è Gloria alla parire dei suoi primi romanzi tutti pronunziarono il nome De Balzac e Charpentier lo presentava agli amici dicendo ecco un nuovo Balzac perciò tocca appena di volo questo suo padre letterario come se la cosa dovesse essere sottintesa dei suoi studi non disse altro non deve avere cultura classica poiché confessò egli stesso di essersi trovato imbarazzato a leggere certi libri in latino volgare e in questo è la pari con molti dei più illustri scrittori francesi di questi tempi ma fece la sua educazione da se stesso studiò combattendo come generali della rivoluzione studia man mano che ad scrivere un romanzo per quel romanzo tutte le questioni che vanno a tenenza come faceva Georges Saint legge continuamente forzato dalle esigenze imperiose della polemica ha sulla punta della dita tutto il romanzo di questo secolo conosce profondamente Parigi padroneggia insuperabilmente la lingua e pensa si venne poi al più importante degli argomenti il parodi gli domandò ex abrupto come faceva a fare il romanzo era proprio un toccarlo sul vivo sguenò quasi tutto il suo pugno letto lo ricacciò con forza nel fodero e cominciò a parlare speditamente animandosi a grado a grado ecco disse come faccio il romanzo non lo faccio affatto lascio che si faccia da sé io non so inventare dei fatti mi manca assolutamente questo genere di immaginazione se mi metto a tavolino per cercare un intreccio una tela qualsiasi di romanzo sto anche lì tre giorni a stillarmi il cervello con la testa fra le mani ci perdo la bussola e non riesco a nulla perciò ho preso la risoluzione di non occuparmi mai del soggetto comincio a lavorare al mio romanzo senza sapere né che avvenimenti vi si svolgeranno né che personaggi vi avranno parte né quale sarà il principio e la fine conosco soltanto il mio protagonista il mio rougon o macart uomo o donna che è una conoscenza antica mi occupo anzi tutto di lui merito sul suo temperamento sulla famiglia da cui è nato sulle prime impressioni che può aver ricevuto e sulla classe sociale in cui ho stabilito che debba vivere questa è la mia occupazione più importante studiare la gente con cui questo personaggio avrà che fare i luoghi in cui dovrà trovarsi l'area che dovrà respirare la sua professione le sue abitudini fin le più insignificanti occupazioni a cui dedicherà i ritagli della sua giornata mettendomi a studiare queste cose mi balena subito alla mente una serie di descrizioni che possono trovare luogo nel romanzo che saranno come le pietre miliani della strada che debbo percorrere ora per esempio sto scrivendo Nenè una cocotte non so ancora affatto che cosa seguirà di lei ma so già tutte le descrizioni che ci saranno nel mio romanzo mi sono domandato prima di ogni cosa dove va una cocotte va ai teatri alle prime rappresentazioni sto bene ecco cominciato il romanzo il primo capitolo sarà la descrizione di una prima rappresentazione in uno dei nostri teatri eleganti per far questo ho bisogno che studi vado a parecchie prime rappresentazioni domani sera vado al guete studio la platea i palchi il palcoscenico osservo tutti i più minuti particolari della vita delle scene assisto alla toaletta di un'attrice e tornato a casa bozzo la mia descrizione una cocotte va alle corse a un grand prix ecco un'altra descrizione che mettono nel romanzo a una conveniente distanza dalla primo vado a studiare un grand prix una cocotte frequenta il grand restaurant e metto a studiare grand restaurant frequento quei luoghi per qualche tempo osservo interrogo noto indovino e così avanti finché non abbia studiato tutti gli aspetti di quella parte di mondo in cui suole agitarsi la vita di una donna di quella fatta dopo due o tre mesi di questo studio mi sono impadronito di quella maniera di vita la vedo la sento la vivo nella mia testa per modo che sono sicuro di dare il mio romanzo il colore il profumo proprio di quel mondo oltre che vivendo per qualche tempo come ho fatto in quella cerchia sociale ho conosciuto delle persone che vi appartengono ho inteso raccontare dei fatti veri so quello che vi si suole accadere ho imparato il linguaggio a chi vi si parla ho in capo una quantità di tipi di scene di frammenti di dialogo di episodi di avvenimenti che formano come un romanzo confuso di mille pezzi staccati ed informi allora mi rimando a fare quella che per me è più difficile legare con un soffilo alla meglio tutte quelle reminescenze e tutte quelle impressioni sparse è un lavoro quasi sempre lungo ma io mi ci metto flemmaticamente e invece d'adoperarci l'immaginazione ci adopero la logica ragiono tra me e scrivo i miei soliloqui parola per parola tali quali mi vengono in modo che letti da un altro parrebbero una stranissima cosa il tale fa questo che cosa nasce solitamente da un fatto di questa natura quest'altro fatto quest'altro fatto è tale che possa interessare quell'altra persona certamente è dunque logico che quest'altra persona reagisca in quest'altra maniera e allora può intervenire un nuovo personaggio quel tale per esempio che ho conosciuto in quel tal luogo o quella tal sera cerco di ogni più piccolo avvenimento le conseguenze immediate quello che deriva logicamente naturalmente inevitabilmente dal carattere e dalla situazione dei miei personaggi faccio il lavoro ad un commissario di polizia che da qualche indizio voglio riuscire a scoprire gli autori d'un delitto misterioso incontro non di meno assai sovente molte difficoltà alle volte non ci sono più che due sottilissimi fili da notare una conseguenza semplicissima da dedurre e non ci riesco e mi affatico e mi inquieto inutilmente allora smetto di pensarci perché so che è tempo perduto passano due tre quattro giorni una bella mattina finalmente mentre foco l'azione e penso ad altro tutto a un tratto i due fili si riannodano la conseguenza è trovata tutte le difficoltà sono sciolte allora un torrente di luce scorre su tutto il romanzo vedo tutto e tutto è fatto riacquisto la mia serenità sono sicuro del fatto mio non mi resta più a fare che la parte è tutta piacevole del mio lavoro e mi ci metto tranquillamente metodicamente con l'orario alla mano come un muratore scrivo ogni giorno quel tanto tre pagine di stampa non una riga di più soggiunse poi dando un colpo della mano aperta sul manico del pugnale è stata la mia tortura è quello che m'ha fatto penare di più per mettere insieme i pochissimi fatti su cui si regge avevo in mente di fare un romanzo sull'alcolismo non sapevo altro avevo preso un monte di note sugli effetti dell'abuso dei liquori avevo fissato di far morire un veone della morte di cui muore coupot non sapevo però chi sarebbe stato la vittima e anche prima di cercarla andai all'ospedale di Sant'Anna a studiare la malattia e la morte come un medico poi assegnai il mestiere di lavandaia e pensai subito a quella descrizione del lavatoio che mi si nel romanzo che è la descrizione di un lavatoio vero in cui passai molte ore poi senza saper nulla del Gouget che immaginai in seguito pensai di valermi dei ricordi di un'officina di Fabbro Ferraio dove ho passato delle mezze giornate da ragazzo e che accennate nel Conte a Nignò così prima di aver fatto la tela del romanzo avevo già concepito la descrizione di un pranzo nella bottega di Gervais e quella della visita al museo dell'Uvra avevo già studiato le mie bettole l'assemoire di Percolome le botteghe l'hotel Boncure e ogni cosa quando tutto il rimanente fu predisposto cominciai a occuparmi di quello che doveva accadere e feci questo ragionamento scrivendolo Gervais viene a Parigi con Lantier suo amante che cosa seguirà? Lantier è un pessimo soggetto la pianta e poi? Lo credereste che mi sono intoppato qui e che non andai più avanti per vari giorni dopo vari giorni feci un altro passo Gervais Gervais è giovane è naturale che si rimarita sposa un operaio Coupou ecco quello che morirà a Sant'Anna ma qui rimasi in asso da capo per mettere a posto i personaggi e le scene che avevo in mente per dare una statura qualunque a romanzo mi occorreva ancora un fatto uno solo che facesse nodo con i due precedenti questi tre soli fatti mi bastavano il rimanente era tutto trovato preparato e come già scritto per di steso nella mia mente ma questo terzo fatto non riuscivo a raccapezzarlo passai vari giorni agitato e scontento una mattina improvvisamente mi balèo un'idea l'entier ritrova Gervais famicizia con Coupou si stella in casa sua e allora il s'etabli un monnage a trois come je n'avais plus per sie e ne segue la rovina respirai il romanzo era fatto detto questo ha perso un cassetto prese un fascio di manoscritti e me li mise sotto gli occhi erano i primi studi della semoire in tanti foglietti volanti fine della registrazione della sezione 2 del capitolo 4 del libro ricordi di Parigi di Edmondo di Amicis registrato da Davide Lequile di Amicis di Amicis di Amicis di Amicis Grazie a tutti.